ho preso qualcosa ho 24 giri gratis in totale, più gira più me ne da ogni cuoricino che mi da mi da un altro giro gratis, un altro, non paga niente però dandomi altri giri ho la possibilità di beccare, e ora ho beccato, Tito? altro giro gratis altro giro gratis altro giro gratis soldi soldi giro gratis e poi solamente bebe